Quello europeo del 68, la nazionale aveva grossi campioni come lei, come Facchetti, però non partiva con i favori del pronostico, ha un ricordo di come era vissuto quello europeo che tra l'altro si giocava proprio in Italia? Quando siamo arrivati al girone finale avevamo una buona speranza intanto perché si giocava in Italia e poi però la squadra era di buon livello e siamo stati un po' fortunati nella partita di semifinale perché siamo passati col sorteggio e la partita era finita in pareggio con l'Unione Sovietica e il sorteggio ci ha dato ragione. Quando invece ci aveva dato torto alle Olimpiadi del 60 per la finale del primo posto quindi siamo stati compensati da un sorteggio favorevole e poi un po' di fortuna l'abbiamo avuta quando abbiamo dovuto rifare la finale. Io ormai non potevo più giocare perché mi ero infortunato e quindi non potevo però la squadra era caricata e noi avevamo qualche giocatore in più da far giocare la seconda finale contro la Jugoslavia e quindi la cosa è stata positiva. Avevano un'ottima squadra ma non avevano probabilmente riserve dello stesso altezza che invece l'Italia aveva. Proprio lei lo diceva insomma ha giocato lei in semifinale poi per un infortunio l'ha costretto a saltare quella famosa finale. C'è a distanza di così tanti anni ha insomma ci ha ripensato a quell'episodio insomma un po' di rammarico per non aver partecipato o invece la gioia insomma per... Io non ho giocato per infortunio però avevo fatto tutte le partite precedenti quindi il mio contributo l'ho dato anch'io. Mi è spiaciuto non fare la finale però l'importante è che poi la squadra abbia vinto e tutti insieme abbiamo potuto festeggiare. Ecco, si ricorda anche dell'atmosfera che c'era insomma quell'anno per questi europei qui in Italia? Si ricorda insomma comunque il calore che c'era intorno alla nazionale? Ma in Italia c'è sempre grande calore per il calcio e a maggior ragione per un campionato europeo è giocato in Italia. Abbiamo giocato in diversi posti, abbiamo sempre avuto un grande calore da parte del pubblico e credo che anche il pubblico abbia aiutato. È stato un po' il dodicesimo uomo in campo.